Benvenuti su un podcast in pretura. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Io ho pochissime considerazioni, pochissime considerazioni perché la requisitoria della procura e la memoria che è stata depositata copre le argomentazioni sul piano della ricostruzione normativa, della dinamica dei fatti che si sono succeduti a partire dal primo soccorso del primo agosto del 2019 e il riferimento delle fattispecie astratte incriminatrici alla fattispecie concreta. E naturalmente si concluderà nel senso delle richieste formulate alla Procura della Repubblica. Anche le argomentazioni dell'avvocato Calantropo mi spingono diciamo ad una maggiore sinteticità. Soltanto alcuni punti voglio evidenziare per la parte civile Open Arms. Il primo dato è quello relativo alla lettura delle disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 2019 numero 53 che ha assunto il nome di decreto sicurezza bis. Viene adottato al Consiglio dei Ministri in una fase di sostanziale tranquillità nella maggioranza di governo perché vi è un rapido succedersi degli eventi sul piano politico in quell'estate del 2019. Viene adottato e l'articolo 1 di questo decreto prevede che il Ministro dell'Interno può, ci dice poi il comma successivo di concerto con il Ministro della Difesa e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti informando nel Presidente del Consiglio dei Ministri può, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale. I poteri che vengono attribuiti al Ministro sono, in presenza di determinate condizioni, quelle di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta delle navi nel mare territoriale. Neanche, diciamo, con quello sforzo normativo che pure era caratterizzato da una volontà politica che è quella che ci è stata più volte illustrata anche nell'esame dell'imputato, che era quella di limitare gli sbarchi in Italia, ma neanche in quel decreto si usa la locuzione e il riferimento allo sbarco, perché è evidente che sarebbe di per sé in contrasto con le previsioni del diritto internazionale e del diritto del mare, quello di vietare a chi si trovi all'interno delle acque territoriali e che abbia dei naufraghi a bordo della propria imbarcazione e lo sbarco. Sulla questione della necessità del riconoscimento, dell'attribuzione del porto del place of safety, siamo tornati più volte all'interno del processo, sono stati ascoltati i testi, gli esperti, abbiamo sentito come e non potrebbe essere altrimenti chi ha soccorso delle persone in mare ha il diritto di completare rapidamente l'operazione di salvataggio, lo ha chi è stato soccorso e lo ha il soccorritore. La nave va liberata. Noi non pensiamo al caso di una nave soltanto dedicata al soccorso, pensiamo a un mercantile che ha l'avventura o la fortuna di poter compiere quest'atto di generosità e di umanità che è quello di salvare le persone che si trovano in pericolo in mare e il quale non per questo deve essere sacrificato in alcun modo, ha la necessità di arrivare a terminare rapidamente l'operazione di sbarco. Detto questo, poi il decreto subisce alcune modifiche in fase di conversione, siamo già ad agosto io credo, perché gli emendamenti sono successivi, ma riguardano l'aspetto sanzionatorio dell'eventuale violazione del divieto imposto con il decreto interministeriale e non alla fattispecie dell'articolo 1 e poi viene convertito nella legge 77, l'8 agosto del 2019. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto non ancora convertito in legge, successivamente al primo soccorso, il ministro dell'interno, come prevede il decreto legge non ancora convertito ma già naturalmente in vigore, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come prevede con riferimento al soggetto emanante naturalmente, emette il decreto interministeriale. È il primo agosto, sulla portata di questo decreto si è ampiamente espressa già la Procura della Repubblica e ho riletto le considerazioni della memoria scritta, esattamente ricostruisce i percorsi e anche i limiti evidenti di questo decreto e nella parte dispositiva il decreto dispone sin da ora il divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms nel mare territoriale italiano. Ovviamente neanche il decreto interministeriale, anche con la più forte volontà di arrivare al raggiungimento di quell'obiettivo politico più volte declamato, può interdire in alcun modo o contenere al suo interno la formula del divieto di sbarco. Siamo al di fuori di ogni parametro normativo in relazione alle disposizioni convenzionali e internazionali che disciplinano la materia. In data 13 agosto si aggravano le condizioni del mare, abbiamo oltre 140 persone che si trovano ammassate sulla nave di soccorso e la fondazione Open Arms ricorre al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Siamo al ridosso di Ferragosti e quindi l'unico provvedimento che potrebbe avere un'efficace relazione al caso concreto è un provvedimento monocratico del Presidente del Tribunale. Non esiste la possibilità di arrivare in quel momento, in quelle ore, con la drammaticità di quella situazione che va sempre a diventare più difficile e pericolosa, soprattutto determinata in quelle condizioni di navigazione dall'aggravarsi delle condizioni meteorologiche. Il Tribunale amministrativo sospende in via cautelare, direi in via precautelare sostanzialmente perché avrebbe poi dovuto successivamente ripassare in Camera di Consiglio, sospende in via cautelare il provvedimento reso dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dei Trasporti. Cosa sospende il Tribunale regionale amministrativo del Lazio? Sospende un decreto che impedisce l'ingresso della nave open arms nel mare territoriale. Null'altro fa e null'altro poteva contenere il potere del giudice amministrativo e quello dell'annullamento dell'atto e di determinare alcune condizioni perché la posizione, diciamo, di rimpettaia rispetto a quella dell'amministrazione, ovvero quello dei soggetti privati, l'armatore open arms, le persone che si trovano sulla nave, l'equipaggio e le persone soccorse, abbiano una tutela efficace in relazione a un periculum esistente che in quel caso è determinato alle condizioni generali che abbiamo, che sono state ampiamente descritte. La nave entra nelle acque territoriali. Nessun dubbio può sorgere, ma è stato ampiamente ricostruito, sul fatto che una nave che si trova nelle acque territoriali, che ha operato un'operazione di soccorso, debba concludere quest'operazione di soccorso e debba arrivare a terra e far scendere le persone soccorse. Dal momento in cui è bene delineato questo dato nella definizione del capo di imputazione, successivamente alle richieste del Triburale dei Ministri, nel momento in cui la nave si trova all'interno delle acque territoriali nessun dubbio esiste, nessun dubbio può esistere, nessun elemento di incertezza normativa può esistere che in quel momento deve essere consentito lo sbarco alle persone che si trovano sull'imbarcazione e quindi deve essere concesso il cosiddetto POS. Un altro punto, rapidamente. Successivamente al decreto di sospensiva emesso dal Tribunale amministrativo regionale vi è quel analiticamente ricostruito tentativo di reiterazione del decreto. Da un lato si dice, lì siamo nell'ambito di una situazione che a quel punto colpiva parecchio l'opinione pubblica, era al centro dell'interesse degli organi di informazione. da un lato si ventila la possibilità, impraticabile in realtà, di un ricorso al Consiglio di Stato avverso un decreto monocratico presidenziale e dall'altro quello di reiterare il decreto interministeriale. Qui si verifica la mancata sottoscrizione, la mancata immotivata, ce l'hanno spiegata bene durante l'istruttorio dibattimentale degli altri ministri che avrebbero dovuto concorrere all'emissione del decreto, cioè del Ministro della Difesa e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti anche e sostanzialmente per un motivo che è stato più volte richiamato. Che cosa significava la reiterazione? Da un lato in mancanza di nuovi elementi tra le ore 15, perché mi pare che a quell'ora al di là della comunicazione viene emesso il decreto presidenziale del 14 agosto e la notte del 14 agosto, che la notte tra il 14 e il 15 agosto, la mancanza di un elemento nuovo, di novità che possa determinare l'esercizio di un'attività in autotutela dell'amministrazione che riemette un altro provvedimento. Ma soprattutto in che cosa una volta che la nave Open Arms fosse entrata come era entrata all'interno delle acque territoriali, in che cosa sarebbe materialmente consistito l'ordine contenuto nel decreto. Non poteva essere più, evidentemente, per un dato materiale, l'ingresso nelle acque territoriali avrebbe dovuto significare l'allontanamento dalle acque territoriali. E guardiamo quanto qui si apre la distanza rispetto alla previsione normativa internazionale e recepita dal nostro ordinamento che è riferita alla necessità di dare al più presto un luogo di sbarco alle persone soccorse e alla nave soccorritrice. Si sarebbe dovuto allontanare dal luogo di sbarco. Pensate che elemento di macroscopica lontananza dalle previsioni del diritto si determinerebbe e si sarebbe determinato nel caso di una previsione di rivai via dalle acque internazionali, riportati fuori, oltre che andare fuori con quel carico di umanità dolente che si trovava su quella nave e in quella situazione meteorologica e difficilissima che ci è stata descritta soprattutto dai funzionari e dalle persone della guardia costiera, che spingono la guardia costiera a far addossare la nave al ridosso dell'isola di Lampedusa, a protezione soprattutto delle correnti che arrivano da nord. La reiterazione del decreto non solo si è rivelata impossibile ma sarebbe stata un assurdo giuridico evidente e impraticabile. Le condizioni di imbarcazione le abbiamo dette, le condizioni delle persone che si trovavano in quello spazio, in uno spazio ristretto, decine, decine, oltre 140 persone, uomini, donne, minori, su quel ponte con servizi igienici che sempre di più diventavano inabili rispetto alla possibilità di svolgere la loro funzione, con la promiscuità delle condizioni di vita di persone che scappavano dalle realtà che ci sono state ampiamente descritte ma che sono notorie, delle condizioni di prigionia in Libia, che si trovavano in quella sofferenza di carattere psichico e quindi anche fisico e personale in quella situazione. Di fronte a questo si erge, e questa è la natura garantistica dell'attività che si è svolta all'interno di questo procedimento, di tutela delle garanzie delle persone. Di fronte a queste persone, sguarnite di ogni difesa, ammucchiate e ammassate in quel caldo agostano, in quelle condizioni disperate anche di navigazione sulla nave, si erge l'autorità di pubblica sicurezza nel suo vertice, la quale al di fuori di ogni previsione normativa, in chiara violazione anche dell'articolo 13 della Costituzione, decide di privare della libertà le persone che si trovano in quella condizione. Siamo di fronte all'esercizio di un potere che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento, con le garanzie delle persone in relazione alla tutela del bene primario e della libertà personale, oltre che in quella condizione di grave contrapposizione al diritto umanitario che è contenuto nelle previsioni anche convenzionali del diritto internazionale del mare. Io chiudo qui sostenendo naturalmente e riportando le conclusioni per la Fondazione Open Arms. Open Arms dal 2015 svolge questa attività di soccorso in mare. Noi sappiamo quanto i nostri mari, i mari del Mediterraneo, i mari del Mediterraneo centrale, siano diventati luoghi di morte, di quanto quei fondali oggi siano pieni di cadaveri di uomini, di donne, di bambini che tentano di arrivare sulle sponde meridionali degli Stati europei. Open Arms ne ha salvate decine di migliaia e si è trovata in quell'occasione non solo a non avere il supporto che pure è previsto dalla Convenzione internazionale, innanzitutto dalla Convenzione SAR, da parte dello Stato rivierasco, da parte del soggetto di primo contatto dell'operazione SAR a seguito del soccorso, ma si trova di fronte a questo ostacolo, di fronte a questo muro che può determinare pericoli ancora maggiori. È evidente il danno che si è prodotto in quella situazione all'armatore umanitario Open Arms, il danno prodotto al suo equipaggio, alla sua funzionalità, alle attività che essa persegue con un fine esclusivamente umanitario e che tanti frutti ha dato sotto il profilo delle vite salvate. Se tanti uomini, donne e bambini oggi si trovano in vita nei nostri paesi è anche merito di Open Arms.